Maiali presi a calci colpiti più volte con un taser elettrico e l'uccisione di una scrofa malata a martellate. Una brutale procedura che sarebbe stata adottata in un allevamento di Senigallia invece di ricorrere all'abbattimento d'emergenza che prevede lo stordimento efficace degli animali. Uccisione e maltrattamento di animali sono quindi capi d'accusa per cui sono finite in questi giorni a processo al Tribunale di Ancuna tre persone. Si tratta del titolare e di due operai filmati nel 2018 dall'organizzazione animalista Essere Animali tramite una telecamera nascosta. Come mostrano le immagini pubblicate su YouTube si vedono compiere violenze su maiali, scrofe incinte e suini con martelli, pungoli elettrici e bastoni in metallo. Da quelle stesse immagini e da quella denuncia dell'associazione che era riuscita a infiltrare un suo collaboratore nell'allevamento oggi chiuso, è scaturito un filone di indagini da parte della procura d'Orica con sopralluoghi del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei carabinieri di Ancona. Da lì poi il via all'iter giudiziario del caso rinominato l'allevamento degli orrori. L'associazione è stata riconosciuta come parte civile nel processo a carico del titolare dell'allevamento e del capo operaio che impartiva gli ordini, mentre il secondo operaio è stato ammesso dal giudice alla misura della messa in prova. Soddisfatti i vertici di essere animali. Abbiamo chiuso un allevamento dove venivano commesse violenze sugli animali di inaudita gravità, ha commentato il presidente Simone Montuschi. Ora il nostro impegno continuerà sul piano legale per chiedere la condanna penale degli autori di questi comportamenti.